Ci troviamo nella salita che porta all'isola ecologica, siamo venuti per verificare le eventuali manchevolezze che ci sono anche perché sono arrivate diverse segnalazioni per quanto riguarda lo stato della strada che è davvero impressionante e direi mal curato. Qui vengono e arrivano e tornano diverse macchine al giorno per trasferire i rifiuti all'interno dell'isola ecologica. E' sembra impossibile che nel 2013 si possa verificare una cosa del genere, come vedete le immagini quasi sono delle voragini che si vedono e si notano all'inizio della salita ma anche dopo la salita ed esattamente di fronte proprio all'isola ecologica. Bisognerebbe intervenire, noi lo facciamo mostrandovi le immagini e poi sarà opportuno che intervengano le autorità. Vediamo ora com'è la situazione proprio davanti all'isola ecologica e prima dell'isola ecologica. Come vedete dalle riprese di Bruno Scotto, qui non è una strada, è un piccolo laghetto dove appunto ci possono stare anche le anatre per come è messa. Questa è la prima buca che si trova prima di arrivare all'isola ecologica. La seconda, l'acqua non è tanto chiara, molto probabilmente perché sarà inquinata anche questa. Questa è la terza buca che praticamente prima era stata appunto isolata da qualche cosa, adesso invece è proprio libera. A circa 30 metri dall'entrata dell'isola ecologica la situazione è questa come potrete vedere dalle immagini. A parte l'odore nauseabondo che si sente e che emana, c'è appunto questa situazione qui. Ecco le macchine o le auto dovrebbero attraversare o andare in mezzo a questa voragine qui per poi entrare all'interno. Ma qui si nota proprio la trascuratezza. Voragine qui sarà due metri per due metri, quattro metri per quattro. È impossibile transitare, ma io direi anche che è impossibile rimanere qui all'esterno per l'odore nauseabondo che si sente e che con il vento appunto lo porta dalle nostre parti. Noi dopo le segnalazioni che abbiamo avuto l'abbiamo portata alla vista di tutti, con la speranza che i responsabili vedano e provvedano, perché altrimenti sarebbe davvero una brutta cosa, anche perché sta arrivando l'inverno, quindi tra le piogge ma anche i liquami che o qualcosa di strano che arriva proprio qui in queste fosse, in queste voragini, diventa davvero critico. Le immagini che potete vedere sono veramente interessanti se Bruno zooma la parte più bella di una madonna, quel mare azzurro che contrasta violentamente con questo mare nero, queste pozzanghere e queste boragini.